Il Gesuita Papa Francesco fa un'operazione mirabile di coine tra Francesco e i Gesuiti e in particolare Sant'Ignazio. Sant'Ignazio ha scritto un libro che è l'autobiografia che descrive la sua vita, in generale la vita, come un pellegrinaggio. C'è un testo del Papa che è, credo, l'esortazione apostolica alla santità nel mondo contemporaneo e ha come titolo Gaudete ed Ex Sultate, che comincia citando il fatto che ciascuno di noi quando nasce è spinto a camminare, lui usa anche il termine correre, ma lui dice non corri da solo, tu corri con i tuoi cari e con una moltitudine di persone che magari tu non conosci e che cammina, corre con te. Allora lui che cosa dice? Lui dice che la cosa importante è, e questa è la santità, fare in un modo straordinario delle cose ordinarie e le cose ordinarie sono il rapporto con gli altri. Quindi la cosa che tu devi fare siccome non cammini da solo è costruire un sistema di relazione con le altre persone che ti camminano insieme. Il ragionamento che lui fa ti porta addirittura alle soglie del buddismo, perché lui sostiene esplicitamente citando il concilio che ciascuno quindi avrà una strada individuale, non c'è una strada generale. Ma poi dice un'altra cosa che i santi non sono persone che fanno sempre buone cose. Tu i santi li giudichi perché nel loro insieme fanno delle buone cose. Lui vede la fede come un insieme di valori che tu hai dentro e che sono quelli che ti rafforzano in questa attività difficilissima. Allora io vi invito a pensare a qual era la cultura di Lutero e della riforma. È l'esatto opposto, è San Paolo, è tu vai a cavallo e vedi Dio in tutta la sua onnipotenza. Ti appare come ti appare il Dio di Aristotele. È bello, no? Ti butta per terra, tu potente, infinito, tu non sei niente. E questo fissa l'obiettivo. Tu diventi santo perché vuoi fare le cose che vuole Dio. Il Papa non ti dice cosa devi volere, devi solo camminare insieme agli altri. Non c'è un obiettivo da conseguire. La santità non è raggiungere un posto, è gestire un processo. Questa cosa ricorda ad esempio una definizione che diede un politico italiano della libertà. Palmiero Togliardi sostiene che la libertà è il processo concreto per liberarsi. La libertà non è un insieme di valori come sostenevano dei laici. Io voglio mettere nel rilevo che è chiaro che quando discutevamo prima di quei disegnini, facevamo incontri con la cultura occidentale, quello orientale. La partita è davvero grande perché un signore che parla a miliardi di persone non è detto che ci riesca, ma un'idea ce l'ha e l'idea è la vittoria postuma della controriforma. I gesuiti erano i nemici della riforma. I gesuiti sono stati la spina dorsale dell'organizzazione del Concilio di Trento. Quindi è l'idea che in un'economia della conoscenza, in un sistema che ha profondi cambiamenti e non ha ancora un sistema di valori consolidati, la cultura cattolica può essere in grado. Questa è la scommessa. Se voi leggete quel pezzo vi accorgerete che ad esempio la questione dei migranti o una serie di altre cose non sono affatto aspetti di buonismo. Non c'è mai niente che non sia una conseguenza razionale del modo più efficiente per garantire la propria felicità. Giovanni, scusami, ritornando un attimo così, cercando di tradurre i termini di attualità, di lettura anche del reale, sostanzialmente camminare insieme, quindi è come se questo giochino che viene rappresentato non avesse altra possibilità di essere in qualche modo, di autoriprodursi in maniera automatica, se non introducendo delle varianti che sostanzialmente sono legate all'introduzione di una socialità, quindi anche di sistemi etici, valoriali, che conducano gli individui, i soli, a essere riaggregati e questo è un po' un tema. Tu dicessi connesso o sconnesso sono assolutamente d'accordo. Cioè io non penso che sia... E' una probabilizzazione della società sostanzialmente. Sì, sì, esistono processi che generano ricchezza, che tendono a costruire un meccanismo profondamente in giù. Cioè semplificando la ricchezza futura si misura nella quantità di relazioni che tu hai. Sì, ma quello che dice è la prima delle equazioni che un signore si chiama... quello che ha inventato quel giochino si chiama l'anziobarabatica. Questo signore ha pubblicato recentemente un libro che è la formula, che si intende la formula del successo. In questo libro la prima delle equazioni suona così. La prestazione, quindi la performance, dipende dall'individuo. Ma la remunerazione della prestazione, il ritorno della prestazione, dipende dal rapporto che tu hai con la rete sociale nella quale va bene. Questo vale per gli artisti, ad esempio quello che conta molto è la rete sociale nella quale sei inserita. Sono teorie che tu ritrovi, adesso citavo un papa, ma tu li ritrovi tranquillamente in tutti gli studi moderni sui sistemi complessi e sulla teoria della rete. La dinamica di questi sistemi sociali ha delle caratteristiche che nel campo della natura, noi ad esempio le proteine non siamo in grado nemmeno di capire cosa sono, il cervello è fuori di qualunque comprensione, tu oggi comprendi ad esempio le alluvioni o le foglie delle piante o fiocchi di neve in un modo che probabilmente non era in grado Democrito di capire. Ma lui c'era andato vicino a buon senso. Al di là di quello è una questione dell'etica. Soltanto che l'etica è facile farla sulle cose che si conoscono. Qui abbiamo un'opera molto più complicata. Costruire un'etica che governi la scoperta di cose oggi ignote. E non è semplicissimo. Quindi è per quello che io citavo, pur essendo lontano dalla storia della mia cultura, quello che mi sembra molto lucido come pensiero, quello del Papa. Perché poi lui continua adesso in quella risortazione. Spiega anche che ci sono due eresie. E le due eresie sono quelli che di fronte alla difficoltà nel rapporto con gli altri costruiscono modelli sempre più complicati, di cui si vantano e si gloriano e disprezzano la gente che stupida non li capisce. E l'altra, la categoria delle persone che di fronte alla difficoltà dei rapporti costruiscono comportamenti iterativi, sorti di esorcismi della paura, nei quali si rifugiano perché non hanno la forza di costruire un reale dialogo con gli altri. Ed è interessante, detto da un Papa, che questi due atteggiamenti vengono costrati non peccati, ma eresie. Cioè cose che pongono extra ecclesi. Proprio perché rompono il rapporto interno della comunità.